Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento dedicato all'informazione di Calabria News 24, i titoli del nostro telegiornale. Sequestrati beni ad un imprenditore vicino alla Cosca Mancuso. Catanzaro, Oliverio incontra i prefetti per discutere di sanità. Rimozione Eternit da alcuni palazzi a Cosenza con l'ausilio di droni. All'Orica si è svolta la finale regionale del premio Oscar Green Calabria 2019. In apertura dunque la cronaca, la Guardia di Finanza di Catanzaro ha effettuato un sequestro di beni per un valore di oltre 800 mila euro nei confronti di Giovanni Capennì, presunto affiliato alla Cosca Mancuso di Limbadi. La Guardia di Finanza di Catanzaro, coordinata dalla DDA, ha eseguito un provvedimento di sequestro di beni per un valore di oltre 800 mila euro, destinatario della misura ablativa è Giovanni Campennì, di 53 anni, di Nicotere, in provincia di Vibo Valencia, contiguo alla Cosca Mancuso di Limbadi, già condannato in via definitiva per ricettazione e tentata estorsione. Campennì era stato indagato anche nella nota operazione Mondo di Mezzo, Mafia Capitale. In particolare l'attività investigativa svolta in quel contesto aveva fatto emergere un accordo imprenditoriale tra l'Associazione Romana, riconducibile a Massimo Carminati e Salvatore Buzzi e il clan Mancuso di Limbadi. Il clan Mancuso, in virtù di questo accordo, tramite il suo rappresentante Campennì, avrebbe avviato attività imprenditoriali in collaborazione con l'associazione riferibile al Carminati in cambio della possibilità per il clan Laziale di svolgere attività economiche nel territorio calabrese sotto la protezione della cosca Mancuso. Le indagini patrimoniali condotte dagli investigatori del Gicolo, del Nucleo di Polizia Economico-Finanzieria e della Guardia di Finanza di Catanzaro hanno consentito di ricostruire in capo al Campennì un notevole complesso patrimoniale il cui valore è risultato sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati. È stato accertato che lo stesso Campennì ha dichiarato, quale lavoratore dipendente, nonché titolare di un'impresa individuale, redditi del tutto incoerenti con il patrimonio nella sua disponibilità. Il provvedimento di sequestro ha riguardato due ditte individuali, con sede sempre a Nicotera, una riguardante il commercio all'ingrosso di altri mezzi e attrezzature da trasporto e l'altra di trasporto di merci su strada. Due fabbricati, un terreno, tre autovetture e diversi rapporti bancari e finanziari. Ancora cronaca, una estesa discarica abusiva è stata scoperta dai carabinieri a Stefanaconi nel Vibonese. Non è raro in Calabria trovare le strade trasformate in enormi discariche abusive a causa dell'inciviltà di pochi, che probabilmente per evitare di essere censiti a livello comunale e quindi pagare le tasse, lattare in particolare, preferiscono caricarsi la spazzatura in macchina e gettarla nel primo posto appartato lungo il tragitto che percorrono abitualmente. Come non è raro che alcune attività commerciali smaltiscano i propri rifiuti speciali per non essere costrette a mettere in bilancio la relativa voce. Ma per fortuna anche in Calabria si inizia a fare controlli mirati e posizionare videotrappole che immortalano questi incivili in modo da individuarli e sanzionarli come la legge prevede. Una di queste discariche a cielo aperto è stata scoperta dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Vibo Valenza, coadiuvati dai militari delle stazioni dei carabinieri forestali di Vibo Valenza e Spilinga lungo la strada in località Castelluccio del comune di Stefanacoli, nelle immediate adiecenze del serbatoio dell'acqua e in stato di abbandono da anni. I carabinieri hanno trovato di tutto, dai pneumatici usati alle batterie per auto esauste, parti meccaniche e di carrozzeria, rinvenute anche numerose maniche filtranti utilizzate da forni industriali per la verniciatore di prodotti metallici, nonché i lastre di Ethernet, questi rifiuti altamente pericolosi, e tanta tantissima spazzatura proveniente da abitazioni private. Una bomba ecologica quotidianamente alimentata da persone comuni che proprio grazie alle fototrappole sono state scoperte e identificate. Come si può vedere da queste immagini, questi incivili giungevano qui a bordo delle proprie auto e dal cofano scaricavano la qualunque cosa, come se fosse normale disfarsi della propria spazzatura, discapito dell'ambiente e di tutta la popolazione che abita nelle vicinanze di quel luogo. Questi soggetti e i titolari di due aziende sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per il reato di abbandono incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi sul suolo, derivanti dall'esercizio delle rispettive attività commerciali, nonché sono stati anche costestati illeciti amministrativi sanzionati per un importo complessivo di circa 5.000 euro. La strada ora è stata sottoposta a sequestro ed è stata affidata alla custodia della provincia di Vibo Valencia quale ente proprietario, mentre il comune di Stefanaconi e la stessa provincia sono stati invitati, in base alle rispettive competenze, ad effettuare con urgenza le necessarie opere di bonifica del sito. Riunione tra il presidente della regione Calabria Mario Oliverio è il commissario alla Sanità Saverio Cotticelli e di 5 prefetti calabresi per discutere delle emergenze in ambito sanitario. Al termine dell'incontro sentiamo le impressioni del governatore calabrese. È stata utile la riunione perché appunto il commissario Cotticelli ha assunto la responsabilità di ritrovare soluzioni. Io mi auguro e sono sicuro che le soluzioni si troveranno, ma al di là della mia posizione che è nota sul commissariamento, sulla gestione commissariale, eccetera, ho assunto questa iniziativa perché essendo tutto ormai in capo al governo, al commissario per quanto riguarda le funzioni della sanità, anche la nomina dei commissari per dare una direzione alle aziende ed essendo le aziende da oltre due mesi a cefale senza una direzione perché anche i commissari ancora o non sono stati nominati o quelli che sono stati nominati 3 su 7 non hanno ancora assunto le funzioni, non hanno preso, tra virgolette, come suol dirsi, servizio, quindi c'è una situazione abbastanza delicata e quindi io nella mia funzione di Presidente della Regione, al di là del mio punto di vista, ripeto, della mia posizione che è nota sul commissariamento, mi sono nel dovere di porre a questo tavolo che è il massimo di autorevolezza per quanto riguarda le funzioni anche relative alle implicazioni possibili che si possono determinare di altra natura, sui prefetti e il commissario Coticelli di porre appunto questa preoccupazione perché siano affrontati in tempo i problemi e non denunziarli dopo che magari esplodano perché si tratta di problemi di una delicatezza come voi potete immaginare. Ma è stato dato un tempo mentre il quale si riuscirà a comprendere se qualcosa sarà stato fatto? No, no, io ho posto il problema di evitare che si incorra in una situazione di rischio perché siamo praticamente in una stagione, anche la stagione estiva, con un sovraccarico di popolazione, con un sovraccarico di domanda anche presso le strutture sanitarie, gli ospedali eccetera, di cura e di interventi sanitari, quindi una carenza di personale, il rischio di una mancata fornitura di farmaci, se lo va a vedere, può determinare una situazione critica, critica oltre la critica, io voglio che questo appunto si eviti. era messa da una iniziativa, come dire, positiva, propositiva. Il nucleo decoro urbano della Polizia Municipale, con l'ausilio di alcuni droni, sta monitorando la presenza di Ethernet sui tetti dei palazzi della città. Il nucleo decoro urbano della Polizia Municipale di Cosenza, diretto dall'ispettore Luca Tavernise, seguendo anche le linee guida del nuovo comandante Giuseppe Bruno, ha inteso monitorare dall'alto l'intera città sulla presenza o meno di Ethernet. In collaborazione con gli amministratori di condominio dei vari palazzi e con alcune ditte preposte allo smaltimento, si è già provveduto a bonificare parte della stessa città. Specie dopo un attento monitoraggio, ad aver convocato le parti in causa su Corso Mezzini, così come nelle periferie, si stanno eseguendo lavori di rimozione dell'Ethernet pericoloso a carico dei privati. Inoltre, con l'ausilio del drone aereo, dopo numerose segnalazioni e proteste da parte di alcuni cittadini per l'installazione di un'antenna con tecnologia 5G, si è potuto appurare come si trattasse solo di una migrazione di postazione di un ripetitore con tecnologia 4G, ponendo così fine ad un inutile allarmismo di massa che si era scatenato anche su alcuni social network. E cambiamo decisamente argomento. All'Orica si è svolta la finale regionale del premio Oscar Green Calabria 2019, giunto alla tredicesima edizione, promosso da Coldiretti. Si è svolta nella Sila Cosentina, all'Orica, in provincia di Cosenza, la finale regionale del premio Oscar Green 2019 di Coldiretti Calabria, giunto alla sua tredicesima edizione, che ha assegnato i premi e vincitori regionali, giovani innovatori, imprenditori nel mondo agricolo e contadino del presente e del futuro. Recuperiamo le cose che sappiamo fare, le cose della nostra storia, della nostra tradizione, anche dei nostri nonni, con delle forti note di innovazione tecnologica che proiettano anche verso il futuro e verso nuovi traguardi le cose che appartengono alle nostre radici. punta sui giovani, che è l'altra parte, quella interessante, quindi coniugare territorio e quindi un posto come questo, l'Orica, straordinario, una location fantastica, con la capacità dei giovani di innovare un comparto che è tradizionalmente concepito come quasi arcaico, antico. In realtà oggi loro ci stanno dimostrando come sia cambiata l'agricoltura e come ancora potrà cambiare nel futuro. Tra i vincitori anche due giovani imprenditori che parteciperanno alla fase nazionale. Io ho creato un brand di moda sostenibile, ecologica e biologica. Ci sono arrivata nel momento in cui il mio progetto è arrivato in Calabria, ero una ragazza che non viveva più in Calabria da tanto tempo, ho deciso di riscoprire quella che era la storia antica del tessile e quindi c'è stata la mia volontà non solo di proporre quindi una moda sostenibile ma abbracciare quelli che erano antichi filati, antichi tradizioni come il recupero del filato di ortica, il recupero della cana, il recupero del lino e soprattutto un recupero di un filato autoctono calabrese che è quello della ginestra. Ho creato un collare antilupo per appunto tenere lontani i lupi dai gregi. È nata da una necessità, da un bisogno poiché a causa o grazie ai lupi e una persona non si può spostare dal gregio e quindi non può avere del tempo libero. Naturalmente grazie a questa idea che mi è venuta, ho detto io grazie a un collare antilupo si può risolvere la situazione e dare anche la giusta vita a delle persone. E per questa prima edizione è tutto, io vi aspetto alle 19.30 per ulteriori aggiornamenti e come di consueto vi ricordo di consultare il nostro sito www.calabrianews24.it Grazie per essere stati con noi.